Intanto grazie per aver accettato di rilasciare l'intervista. Come è nata l'idea di questo spettacolo? Io mi occupo di queste cose da molto tempo, in realtà non è che nasce l'idea di questo spettacolo, l'idea nasce dall'idea che uno ha del teatro, perché vai nel cangoppa? Per raccontare storie che gli stanno a cuore, se non non giovenono. E quindi è il racconto di una cosa che mi sta a cuore, nei confronti della quale provo empatia. E siccome ho avuto una grande fortuna, e devo dire che questa credo sia stata la più grande fortuna che mi è capitata nella vita, di girare questo pianeta in lungo e in largo. E per cui posso raccontare a questo pianeta chi questo pianeta non l'ha girato né in lungo né in largo. E questo lo trovo un privilegio grosso. Grazie. Grazie.